cancadola è bambutana, l'ha detto che c'è ? bambutiri ma non si sa bambutista come l'ha detto come un'altra cosa? come un'altra cosa? ti senti a fare i bambini si morono i bambini e a fare i bambini Ja, non è lenda! Vedeva andare a Marco! Dio lasciare la macchina, ti ci faccio! Vedeva andare a Marco! Anipi dammi, vede! Vedeva che... Chiamatica! e stupbbazzi stupendo pianto ste cominciando conry mi ringano gi Еще se saravate voi vogami sei che Tu infatti un progetto, spiega un progetto! Tu confatti un progetto inングere! Non è un progetto! Voi che stai a evitare a evitare? E' evitare a evitare a evitare! In grado di spiega un progetto! Non è un progetto che si stai a evitare! Voi ascoltare! Stefani è anche! Cowano! Isra fatti! Grazie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.